Pietro, una volata straordinaria per conquistare il secondo posto a casa tua? È stata una gara magnifica, devo dire che ero molto scettico perché ero riduce da due settimane di ritiro con il Fiamme Oro e dalla Maratona dei Dolomiti, quindi stanco ma a volte quando ci sono i dubbi escono le gare migliori a volte mi sono veramente divertito con il mio amico Mattia Magnaldi alla grande proprio T'hai battuto in volata infatti Alla volta in volata, è divertito Per l'altro è una grande prestazione perché il vincitore in realtà ha fatto 8 minuti meglio rispetto allo scorso anno Il vincitore aveva un motorino, complimenti a lui perché veramente ha fatto un altro sport oggi però noi abbiamo fatto una bella gara Grazie mille, immagino che per te sia veramente anche un bel segno della tua preparazione Certo, io qua sono qua per divertire per allenarmi e adesso però bisogna andare a fare un po' più di schirol perché sono imminenti forse i mondiali estivi e poi la preparazione è imminente quindi avanti così Grazie Grazie